che verrà listato a sorpresa difensore Nessun problema ragazzi, qua è tutto sotto controllo sono usciti i primissimissimissimi ruoli di fantacalcio e oggi li andiamo a vedere sono soltanto tre ruoli però sarà interessante capire un po' il ragionamento uno di questi tre è l'ultimo acquisto fatto dall'Inter un gran giocatore che tutti noi fantallenatori aspettiamo e gli altri due sono due sorprese mi sono già spoilerato il primo le altre due le andremo a vedere il primo appunto è Quadrado Quadrado che verrà listato a sorpresa difensore in realtà neanche tanto a sorpresa perché comunque quest'anno farà parte dei terzini della Juventus e anche se in realtà dovrebbe giocare nel 3-5-2 quindi ragazzi Quadrado difensore fate molta attenzione che per me sarà un colpaccio anche qualora dovesse rimanere Danilo perché sarebbe la panchina di Quadrado poi bisognerà vedere chi giocherà sulla fascia destra l'ho già fatto appunto cioè vi farò perché non avete ancora visto il video sulla Juve vi farò un ragionamento sulla fascia destra della Juve ma con Quadrado difensore ragazzi per me è quello della Juve sulla fascia destra da prendere assolutamente il secondo è Ribery andiamo subito a vedere il ruolo Ribery verrà listato attaccante cazzo Ribery attaccante mi ha colpito cazzo mi ha colpito perché Ribery da centrocampista era un un centrocampista della madonna ma attaccante adesso non lo so quanto abbia valore da attaccante comunque non infantacalci da 6-8 persone non lo vedo neanche nei 3 di attacco titolare perché comunque Ribery ha una certa età è vero l'anno scorso ha fatto una stagione nella madonna però nel fantacalcio il centrocampista è una cosa e Ribery l'anno scorso la centrocampista ha giocato da top quelle partite che ha giocato e non era infortunato ma da attaccante non so quanto possa rendere perché comunque non è un giocatore che ti fa 15 gol 10-15 gol è un calciatore che ti prende il voto buono perché ti gioca bene e può metterti diversi bonus che possono far comodo da centrocampista ma non so quanto da attaccante Ribery quindi cambia un po' di appetibilità l'ultimo appunto è l'uomo a questo dell'Inter Hakimi andiamo a vedere Hakimi verrà listato difensore Hakimi sarà un colpaccio signore sarà un colpaccio lo scorso anno 2 gol e 8 assist in campionato ma poi in Champions ragazzi l'abbiamo visto ma l'abbiamo visto in generale è un calciatore veramente veramente forte l'Inter l'ha pagato 40 milioni più 5 di bonus fate attenzione a questo giocatore mi raccomando prendetelo sarà uno dei top in difesa assolutamente sarà uno dei top in difesa e che dirvi questi erano i tre giocatori beh sono due ruoli ci sono due giocatori di cui il ruolo è molto interessante Hakimi è quadrato ma c'è Ribery che viene un po' rovinato mettendolo come attaccante niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto cosa ne pensate di questi tre ruoli io penso che Hakimi e Quadrato saranno due dei top della prossima difesa dei nostri Fanta Team delle nostre Fanta Squad delle nostre Leghe soprattutto Hakimi fate attenzione ragazzi io vi saluto ciao a tutti